Si è avvicinata troppo a un buco nero e per lei non c'è stato scampo. Una stellina grande più o meno come il Sole in una galassia 3.8 miliardi di anni luce da noi è stata letteralmente divorata. Se ne è accorto il telescopio spaziale Swift della NASA che è riuscito a cogliere il micidiale getto ad alta energia, una sorta di rigurcito di materia sparata a velocità prossima, a quelle della luce emesso dal buco nero in seguito all'abbondante pasto. Grazie a tutti.